Favria via San Rocco, quinto piano con ascensore, centro paese, proponiamo appartamento ristrutturato composto da ingresso, cucina, doppia esposizione con balcone verandato con tenda invernale ed estiva il cucinino che è stato trasformato il ripostiglio angolo lavanderia in fissi esterni con doppio vetro molto luminoso ottima esposizione bagno con ampio box doccia e le due camere da letto ampie la metratura sono 70 metri quadri interni calpestabili qui troviamo porta blindata e la seconda camera o comunque sala col balcone che espone sul centro paese e questo è guanto